Ora sta sul rec? Sicura? Bravissima Silenzio per favore Ciao sono Luca De Benedetti Vengo da Roma Che cosa mi stai dicendo? Sorrisi Ciao sono Luca De Benedetti Vengo da Roma Il mio film si chiama L'ascensore E parla di un ragazzo che preferisce prendere le scale invece dell'ascensore Buona visione Bellissimo E poi che ne so Il colpo si è incazzato Sì che non faccio un cazzo dalla mattina alla sera Beh ha ragione no? Vabbè ma che c'è Il mio padre ha vent'anni e mica lavoravo E quindi? E quindi mi ha detto che se non mi trovo un lavoro mi sbatte fuori di casa Ma devo fare pure un colloquio con un suo amico In un hotel Ma ti pare che mi mette a lavorare in un hotel? E diremo un'altra? Ma se invece di una canna ci prendessimo questo? Ma è... Sì Non so se... Dai così ti senti meglio Fallo per me No so se... Paggisio Ma hai... Ma hai... Grazie a tutti. 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 Ciao. 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 Sì? Noi non ci siamo visti già da qualche parte? Io ho visto. Ciao. Buongiorno? Buongiorno. Buongiorno a tutti. Ti sei perso? Ultimo piano 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 Ultimo hoo Ultimo piano Sensata Ultimo piano Ultimo piano Tornimo piano Volevo lasciare qualcosa di bello Il posto è tuo Nessun guadagno Nessuna paga Nessun guadagno Nessun guadagno Nessun guadagno Nessun guadagno Nessun guadagno